Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato perfetto per chi vuole realizzare dei prodotti di alta qualità. Un filato che vi consentirà di realizzare degli accessori molto utilizzati, perfetti anche per un'idea regalo. Parliamo di un filato unico nel suo genere, che possiamo definire in un certo senso perfetto. Parliamo infatti del Perfect Socks. Analizziamolo nel dettaglio. Perfect Socks. Adesso vi mostriamo il perché questo filato è stato denominato proprio con questo termine. Allora, parliamo di un gomitolo composto per il 75% lana superwash e 25% poliammide, murizing free, superwash, che si presenta così, con un peso di circa 100 grammi per una lunghezza di ben 400 metri. Quindi diciamo che un gomitolo sarà già sufficiente per realizzare un paio di calze dal numero 36 al numero 44, per il quale consigliamo uncinetto e ferri 2,5-3,5. Parliamo adesso delle istruzioni per il lavaggio e il post-lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione e i vostri calzini, ma non solo ad una temperatura che non superi i 30 gradi. È possibile riporli all'interno dell'asciugatrice, ebbene sì, ed è possibile stirare la vostra creazione o le vostre creazioni ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Non è possibile ovviamente candeggiare. Perché viene definito Perfect? Perché ha una tipologia di sfumatura che davvero vi consentirà di realizzare delle calze sicuramente coloratissime, originali, uniche, ma oltretutto, a differenza magari del Sox Pro, che invece punta sull'estrosità dei colori e sulle ripetizioni corte e super colorate, in questo caso abbiamo deciso di aggiungere questo nuovissimo filato anche per le più esigenti. Perché? Perché presenta al suo interno diversi centimetri di filo bianco che segnalano la fine del primo calzino e l'inizio del secondo, quindi potrete realizzare due calzini praticamente identici. Ma per mostrarvi al meglio questa delimitazione bianca e soprattutto le tante meravigliose sfumature di questo Perfect Socks, vediamo le varianti di colore presenti con i relativi telini. La variante che abbiamo visionato finora è la variante divertente e in effetti i colori presenti all'interno di questo gomitolo sicuramente rispecchiano alla perfezione il nome che portano. Quante volte ho detto? Passiamo adesso ad un'altra variante davvero super colorata, vale a dire la variante Rainbow. Passiamo ad una variante a dei colori ben più delicati. Questo è il Perfect Socks Casual e qui potete vedere proprio la variante bianca di cui vi parlavamo prima che appunto segna proprio la delimitazione giusta per far terminare il calzino e ricominciare dall'altro. Questa invece dai toni davvero quasi quelli che ricordano il tramonto è la variante romantica. Passiamo adesso ad un mix un po' più classico diciamo nel quale insomma vediamo appunto queste varianti di colore un po' più scure per il Perfect Socks sofisticato e continuiamo sempre su toni un po' più classici in un certo senso seriosi proprio con il Perfect Socks serio. E parliamo adesso di un'altra variante di colore che è la variante Libero nel quale c'è oltretutto questo Lime che davvero mette in risalto dei colori apparentemente classici. E adesso passiamo ancora ad un'altra variante che è la variante Pensieroso e qui potete vedere proprio quella linea bianca con la delimitazione di cui abbiamo parlato prima a significare l'inizio e la fine della relativa calza che realizzerete. E concludiamo con la variante Marinaro nel quale ci sono ovviamente tutti questi blu e qui si vede la benissimo la variante bianca di cui abbiamo parlato prima. Il Perfect Socks è sicuramente un filato di grande innovazione soprattutto grazie a questa stampa digitale che consentirà di delimitare perfettamente le sfumature e quindi di a differenza del Socks Pro come abbiamo già detto prima di creare davvero due calzini nel quale riuscirete perfettamente a riconoscere quella che è all'inizio e quella che è alla fine. Perfetto per accontentare davvero tutti i gusti da chi vuole usare un po' di più a chi preferisce restare un po' sul classico. Non dovrete quindi più preoccuparvi dei colori e della posizione delle sfumature perché troverete tutto quanto al posto giusto nel momento giusto. Un filato davvero resistente e morbido al tatto e per chi è già cliente Tessiland o comunque per chi acquisterà anche solo per la prima volta questo filato saprà per certo di acquistare un prodotto di alta qualità e soprattutto 100% made in Italy. Insomma perfect socks un nome una garanzia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche su tutte le nostre idee e non solo noi ci vediamo al prossimo video ciao